Aggredita in casa propria, picchiata, rapinata e legata alla ringhiera del poggiolo. Una sequenza da arancia meccanica vissuta in prima persona da una 45enne cinese regolarmente residente in Italia nel suo appartamento di via Capodistria 12. Il silenzio notturno nella tranquilla zona residenziale a due passi da via Baiamonti è stato rotto ieri sera, poco dopo le 20 e 30, dalle urla della donna che disperatamente invocava aiuto. Immediata la risposta di alcuni vicini che l'hanno notata sul poggiolo e hanno allertato il 112. I carabinieri una volta sul posto non hanno potuto far altro che sentire velocemente la donna sconvolta e incapace di esprimersi perfettamente in italiano, assistita poi dai paramedici del 118 e trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara in forte stato di shock ma per fortuna senza gravi traumi. Non è ancora chiaro se la vittima fosse predestinata magari a seguito di un pedinamento o sia stata scelta seduta a stante dai rapinatori che hanno agito in coppia. Tutti i dettagli che verranno chiariti da testimonianze e indagini. La squadra scientifica dei carabinieri si è data subito da fare alla ricerca di impronte o tracce del passaggio dei due malviventi sia in casa che su poggiolo e scale. Basiti i vicini di casa che mai avevano assistito a scene del genere. Quello che hanno visto o sentito sia gli inquilini che eventuali passanti potrebbe risultare decisivo per risalire i responsabili.